Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono tornata con un nuovo video, questa è la volta di un video tag, mi trovate comodamente a casa, in tenuta casalinga, mi sto rilassando 10 minuti e ne approfitto appunto per girare un po' di video tag, mi fa veramente piacere farlo. Il primo video che giro, che è da un po' effettivamente che devo farlo, ho qui praticamente il computer davanti, sono stata taggata dal canale di Lasabi Channel, ti ringrazio carissima per avermi taggato, e il tag in questione è stato ideato da Jumpy97, ed è appunto il tag che si intitola Un profumo per ogni occasione. Mi è sembrato simpatico rispondere, diciamo, a queste domande profumose, e quindi cominciamo subito con la prima domanda. Allora, domanda numero 1, un profumo che usi dopo la doccia? Allora, in realtà dopo la doccia proprio profumo non ne utilizzo, metto il deodorante, quindi il deodorante Aspray, deodorante DAV, Borotalco, Neutro Robert, qualsiasi, quindi comunque sia deodorante. E rispondo in questo modo anche alla seconda domanda, perché dice, un profumo che usi per andare a dormire? No, avendo fatto la doccia la sera e avendo messo il deodorante non metto più nessun profumo, quindi diciamo, risposto col deodorante alle prime due domande. Domanda numero 3, un profumo che useresti tutti i giorni? Allora, sicuramente il profumo che uso, non che userei tutti i giorni, è Alien, perché mi piace davvero tanto, ma mi piacciono anche tanti profumi fruttati, quindi profumo alla vaniglia, al cocco, questi praticamente li utilizzo tutti i giorni, ho il giorno alterni, un giorno alle, un giorno con la vaniglia e così via. Domanda numero 4, un profumo che usi quando sei felice? Allora, non c'è in realtà un vero e proprio profumo che utilizzo quando sono felice, però ricordo che mi è stato regalato un profumo alla zagara, che era veramente fresco, un profumo che sentivo proprio addosso per tutta la giornata. E non lo so, mi mette allegria, mi sa appunto di freschezza, di allegro, quindi forse sì, potrebbe essere diciamo questo qua alla zagara, che poi oltretutto mi è stato regalato, ma non ho più trovato, perché lo volevo ricomprare, ma non l'ho più trovato. Boh, forse ovviamente ce ne saranno, non ho cercato poi così tanto, ecco. La domanda numero 5 invece dice, un profumo che usi quando sei triste? Ovviamente stessa cosa, non c'è un profumo che utilizzo quando sono triste, se sono triste in quel momento capita che magari ho il profumo che ho messo la mattina o che ne so, prima di uscire, quindi per cui se mi capita una cosa triste mi trovo su quel momento in base al profumo che ho messo, quindi non ce n'è uno che assolutamente, anche perché uno non vorrebbe mai essere triste. Quindi, la domanda numero 6 dice, un profumo che reputi da relax? Allora, il profumo che reputo da relax, appunto oltre a quello alla zagara, che appunto mi dava questa sensazione di freschezza, sono sicuramente profumi dolci, quindi il profumo al cocco, io utilizzo ad esempio tantissimo gli oli, quelli di body shop, quindi il muschio bianco, il cocco, la vaniglia, per me sono quelli alla fragola. Proprio profumi molto dolci, per cui per me sono quelli, diciamo, utilizzati più che altro nei momenti di relax. Un profumo, domanda numero 7, un profumo che usi quando vuoi sentirti al 100%, alien, perché è il mio preferito e quindi, sì sì sì, alien decisamente. La domanda numero 8, un profumo che ti concedi nelle occasioni speciali, quindi Natale, Capodanno, Pranzo in Famiglia? Allora, sicuramente nel periodo natalizio, quello di Dior, Hypnotic, Poisson, Poisson di Dior, quello rosso, quello sì, praticamente quando arriva il Natale mi dà quella sensazione di calore, di, non lo so, del classico profumo invernale, proprio del periodo natalizio, quindi sicuramente è quello lì. La domanda numero 9, un profumo che vorresti avere sempre? Profumo che io prediligo, che metto tutti i giorni e quindi sicuramente alien, se potessi lo conserverei a vita, ecco, non accadesse mai, diciamo, che va fuori produzione, se potessi mi piacerebbe preservarlo per sempre, ecco. La domanda numero 10, un profumo che usi poco? Allora, un profumo che uso poco è un profumo, un dupe, quindi un equivalente, acquistato appunto nel negozio Equivalenza, ed è il dupe di La Vie est Belle. Allora, piace tantissimo a mio marito questo profumo, proprio, gli piace tanto, 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 io lo metto però, non lo so, dopo un po', è tipo che mi si ferma in testa, mi viene mal di testa, non so dirvelo, il profumo è molto bello, c'è l'essenza, è veramente particolare. Però io dopo, dopo un po', mi inizio un po' a darmi fastidio, ecco, quindi quello lo uso poco. Numero 11, abbini creme al profumo. Più che altro faccio, ad esempio, che se ho messo l'olio, quello là di Body Shop, che comunque sia sempre un profumo al cocco, magari appunto dopo la doccia utilizzo la crema al cocco, è capitato, sì. Oppure quello alla vaniglia, utilizzo la crema alla vaniglia, ma la stessa cosa la faccio, ad esempio, col bagnoschiuma. Se ho utilizzato il bagnoschiuma alla vaniglia, poi dopo metto la crema alla vaniglia, ecco, diciamo così. Tagga chi vuoi. Allora, siccome praticamente tutte le persone che volevo taggare, da quando, insomma, c'è questo video taggo su YouTube, bene o male sono state quasi tutte taggate, quelle che proprio volevo nominare. Io taggo tutti, a questo punto ritenetevi tutti taggati e così tutti potete, avete la libertà e se vi va la voglia di fare questo video tag. Ovviamente trovate sotto nell'info box il canale dell'idiatore di questo video e se quindi il video vi è piaciuto, ovviamente fatemelo sapere e andate a visitare anche il canale di Giampi, che saluto, ciao. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao, un bacio a tutti, ciao ciao.